Buongiorno e bentrovati, buon sabato 4 maggio. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro Rita Ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando ebbe lavato i piedi ai discepoli, il Signore Gesù disse loro, in verità, in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviate più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà venuto, crediate che io sono. In verità, in verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Siamo nel libro dell'ora, nella seconda parte del Vangelo di Giovanni, che comincia il capitolo tredicesimo, e siamo durante l'ultima cena. Tutta la seconda parte del Vangelo di Giovanni è ambientato negli ultimi giorni, nel giovedì santo, nel venerdì santo, Pasqua, nel Sacro Triduo appunto. Gesù lava i piedi. Giovanni non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, ha dedicato tutto il capitolo sesto a parlare del mistero dell'Eucaristia, ma parla della lavanda dei piedi, che è il gesto che dice il senso dell'Eucaristia, il servizio. E Gesù raccomanda anche noi di diventare servi come lui. Un servo non è più grande del suo padrone, né un inviate più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri, come il Signore ci ha insegnato. Questa è la volontà di Dio, che diventiamo servi gli uni degli altri, anzitutto nella Chiesa, dove i posti più importanti devono essere posti di servizio. E in questo modo si manifesta la volontà di Dio. E Gesù si mette al servizio pur sapendo che c'è Giuda che lo tradisce. Infatti dice conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura, colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Gesù annuncia il tradimento di Giuda e lo sa, e lo sa, e lo sa. E proprio nel suo consegnarsi alla morte si manifesta la sua divinità. Ve lo dico fin d'ora prima che accada, perché quando sarà venuto crediate che io sono. Io sono è il nome di Dio sulle labbra di Gesù. Egli è. Egli è. Perché è il figlio del Padre eterno. Egli è il Dio eterno. Dio vero da Dio vero. E ancora, chi accoglie colui che io manderò accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Nell'accoglienza del Servi di Dio accogliamo Dio stesso. Ecco allora, accogliamo quelli che il Signore ci manda, con amore, per accogliere Dio, per accogliere il Padre, per fare la volontà di Dio. Buona giornata. Il servizio sia la scelta più bella che ci rende uomini e donne della Pasqua. Buona giornata. E la Vergine Maria, che è serva del Signore, vegli sul nostro cammino e ci insegni ad accogliere Gesù. Sialudato Gesù Cristo.